Arte, cultura, sperimentazione, Neste e più di un festival è una piattaforma diffusa in una quarantina di spazi in tutta Torino che ospitano progetti espositivi di attori nazionali e internazionali da Berlino al Messico. 19 realtà guest provenienti da Berlino al Messico. I clienti, cioè da fuori città, trovano sotto la mole il palcoscenico su cui esibirsi. Tra loro due progetti toscani di arte collaborativa, dove l'opera nasce dall'intreccio di mani e ingegno di molti. Nei garage sotterranei di Piazza Carlina, invece, trova spazio il progetto milanese di The Open Box, una scatola che da contenitore delle auto parcheggiate diventa terreno per esplorare la mente degli artisti. Torino le croce via di sguardi ed esperienze che raccontano l'Italia intera. Le gallerie di San Salvario e Vanchiglia ospitano fotografie, installazioni e performance. Anche il Castello del Valentino si presta alla contaminazione dell'arte contemporanea. L'installazione interattiva sul caldo e sul freddo raccoglie big data prodotti dal passaggio degli utenti della residenza seicentesca, come temperatura e umidità in un poema algoritmico, visivo e sonoro prodotto in tempo reale.